Un ripristino davvero pazzesco, quello operato alcune settimane fa nella zona della Gammarana dopo diversi lavori fatti su interventi di metanizzazione, vero Ingegner Marcozzi? Sì, noi stiamo denunciando la situazione drammatica delle strade, il cominciare da via Aeroporti, via Potitoranti, per noi sempre via Gammarana via Tripodi, la situazione della Gammarana delle strade è drammatica, ma a questa situazione drammatica c'è una sovrapposizione del fetto che è quello del ripristino a seguito di lavori per tubi del gas molto in mente, è stato fatto un ripristino veramente vergognoso e chiediamo al comune di mettere in atto gli adeguati controlli, gli opportuni controlli affinché la ditta che eseguita i lavori rimette a posto la situazione che è veramente pericolosa. Sono delle buche che secondo me qualcuno prima o poi con qualche motorino andrà di testa con gravi pregiudizi per la salute del conducente del mezzo. Secondo lei che cosa sarebbe da fare? Sarebbe da fare che l'ufficio tecnico in comune chiami la ditta e chiedi il ripristino dell'intervento non fatto a regola d'arte e è vero che c'è in gioco una couzione veramente ridicola ma che denunci la ditta esecutrice per la cattiva esecuzione dell'intervento. Buone notizie invece per quello che riguarda l'illuminazione, anche in questo caso il comitato di quartiera aveva proposto una denuncia e una sollecitazione al comune di Teramo. Sì, il bravo Vinicio Ciarroni, l'efficiente segretario, immediatamente il giorno stesso la denuncia ha comunicato il ripristino dell'illuminazione oramai da diversi giorni, diverse strade erano al buio, onore al merito, efficace ed efficienza.